eccomi qui ragazzi sono tornata lo so è passato un po' di tempo ma avevo molte cose da fare e quindi ho dovuto assentarmi per un po' prima di tutto voglio ringraziare tutti i nuovi iscritti vi volevo dire grazie per le vostre iscrizioni e spero che mi aiuterete a fare tutorial a chiedere dei consigli poi ancora non ho fatto il sorteggio del concorso che vi ho lasciato questa settimana che è scaduto il 7 giugno volevo dire grazie a quelle persone che hanno partecipato e appena sceglierò la vincitrice vincerà da me uno sfondo o una grafica per facebook come vi ho accennato sorteggerò anche la persona del video di Ode Bouncer ora iniziamo con il tutorial l'effetto di oggi sarà l'effetto fluo vediamo che adesso sta andando molto tutti questi smalti fluo questi trucchi tutti fluo che adesso è la moda del momento e facciamo delle scritte fluo apriamo Photoshop questo è l'effetto finito andiamo su file nuovo andiamo su personale mettiamo anzi scusate centimetri e facciamo una cosa orizzontale poi in base a quello che voi volete decidete per che cosa farlo gli diamo un 20 per un 10 di altezza gli diamo RG72, RGP, colore trasparente prendiamo il nostro secchiello il primo colore qui ci scegliamo un bel nero e lo clicchiamo dentro andiamo a sceglierci il secondo colore ci facciamo un nero più chiaro prendiamo l'effetto sfumatura prendiamo la sfumatura rombi mettiamo il grigio in primo piano vedete? clicchiamo dentro e faccio uscire tutte queste sfumature tutte queste effetto così ora prendiamo la nostra T adesso ci andiamo a scegliere neon la clicchiamo in bianco lo scriviamo vediamo una dimensione più piccola ecco e mi scelgo questo questo neon qui allarghiamo un po' questo per prendere tutta la scritta lo centriamo ecco adesso andiamo sullo stile di livello e aggiungiamo un bagliore gli diamo un verde molto forte ecco vediamo gli diamo una dimensione e già adesso effetto è fluono gli diamo un dimensione 9 un'estensione 30 diamo smusso e rilievo vedete? in automatico gli diamo ok prendiamo questo livello e lo copiamo sopra livello rasterizza testo questo livello che abbiamo creato lo portiamo sotto al livello di testo adesso che facciamo? prendiamo questo testo vedete che abbiamo la copia andiamo su andiamo su livello oggetti avanzati converti in oggetto avanzato in modo che io adesso posso lavorarci meglio poi andiamo su immagine sul livello rasterizza oggetto avanzato così che tutte le sfumature tutto quello che c'è dentro io ce l'ho unito una volta che ho fatto questo mi seleziono il testo e gli do di nuovo un colore nero che sarebbe il nero del fondo vedete? così che io all'interno ce l'ho tutto nero e c'è solamente questo esterno ora andiamo su filtro sfogatura controllo sfogatura vedete? adesso io incomincio ad avere questo effetto neon questo effetto fluo vado su sfogatura con effetto movimento gli do un movimento molto leggero andiamo a lavorare di nuovo sul fondo e gli diamo un grigio più chiaro andiamo su filtro rendering nuvole guarda andiamo su esclusione prendiamo il nostro pennello nero e incominciamo con un'opacità molto leggera iniziamo ragazzi questo è l'effetto finito spero che vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo tutorial un'opacità un'opacità Grazie a tutti.